Grazie a tutti 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 No Grazie a tutti 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 Abbiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti No No Yeah Grazie a tutti No 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 Abbiamo avuto un episodio in Rolanda con Gis, un episodio in Rolanda, un'intervistabile, un'interessa lanta per scrivere un'autobiografia, per co-write e sa qui. Però quanto hai votato in? Ora vi sa nomas, e sa qui nomas? Per il mio buco è Sali, è in 2017. Bota clean? Jawel. Promete o V2017? V2017. V2017, awesome. È la vera. Qui copasse di 2017 per 2021, biede a cambia, bota, perugd en beroemd. Questa è la vera, non c'è celebrato? Questa è la vita. Questa è la mia vita, ma? Questa è la mia vita. Questa è la mia vita, non c'è il nostro ero? Grazie. Questa è la mia vita? Questa è la mia vita è la mia vita, che c'è una pi se fa ache. ma anche l'appare, ma anche se c'è qualcosa di più grande. Io non posso dare. E non è possibile. Non mi può fare la sua scuola, ma non. Non lo so, non lo so. Noi, non lo so. Ok, ok, bene, è tutto. Con un programma è insieme. Perchè la mia cosa è un'altra parte, ma come realizzata, come a la vita. E' un'altra parte. 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 Sì. E' un'altra parte. E' un'altra parte. Perché, ma che devo farlo. Grazie一定o e tu si avanzata poi devo non avere una vergonomia? non ma perché, non è ad un erro che vive il nostro corpo attraverso! L如 throat, an øum foremost può cercare la notizia che non stia a te stesso faccio Voi senti che un recidivista o una persona che ha passato a quello che abbia passato, portare un esempio? Voi pensi che un recidivista che abbia passato a questo personaggio, un'escorto che abbia passato, non c'è una narcotrista che abbia passato? do you think ora bo sali from the dark side to this shine ja, bo sali for discuridad, drenta, luz bo porta un ejemplo si, mi bo sowieso bo porta un ejemplo, bo ti un verhal bo ti un historia ando bo ta it depends how you bring it bo mister bo mister bo convencer eigenlijk bo mes co bo tin bo ta clapa bo comparti bo historia ando bo ta claco bo historia ando tapece bo que compartie ando sin un otro bo mese sa compa bo bring it over bo mese sa compa bo pa bo pende bo historia si pa eno pa eno ta co bo ta propaga e historia sino pa bo ta un ejemplo con eno miscita yes yes mescos me ta fient co orbo leza mi buki yeah ando bo no mira co wow e e no a mi si po koki yes e no a mi si lo lago no amra se na comi e no si bono mira coi ando bono mira e guarda chi buki e bono sa e badule chi buki me ta contento co bo ta co a bo ta trece di lanti pa sobra te saite verdad si bono haña un angustia yeah ora go bo leza e buki yeah bo hai un miedo un temor yeah ando eri bono tin e bono 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 no bono ando hopi and then i'll get the message na mi explicav un cos nina lo qual co a mi ta ho pi importante di boi mi te chere maybe bo po añe die sa na borol bo tin street language y bo tin street knowledge yes bo tin el lenguaje di kaya y bo tin el conocimento di kaya e diploma dame co ta ma je importante pa papi co jovena un po di no psicologo ino sa otten un otro persona tambe kuta duna charla nang tocante di sexualidad jovenan ta escucha co un cierto tono de nang de na mente anto abutin e neat et tono nami visi cos maneta pa visa e cos curu manera eta co esperanza co mensaje e me se dun wake up call panang co es e not de caminda ja wot e ens ja he lema e lema entretanto wot papi koki mitamira min dilante com mieta in chese sai anto gom pashin gulde ton de tait malaga un cliënte patimi dus elabim bisa kuk klappa gif anto amikere kuta amikere kuk klape anto matuma sosenkaba anto orgo me llegan para sud dilante van ok weet kuk 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 ya matuma esenkaba anto ya ya min kedu ns sen bak tampoco des med ya mito me kuk kuk manera kuk paneme riva su piano poneme kabeza boh no wak ma i pari slarri vanmi bella wak nota normale e mi sono stati chiesti 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 Nina, vediamo la parte finale Percepzione di comunità Faccio buoni documentari come ti sentite? Amico? Con la carne proprio come ti senti con la nostra comunità come ti senti con la nostra percezione come ti senti con la nostra comunità come ti senti con la nostra comunità come ti senti? mi ti aprecia molto per la sombra non ti cos'ho guarda la mira snel, però mi ti consiente che i miei cos'ho non poteva in l'air non ti leggo a bocca e back quindi questo significa che ogni stop che mi dà mi mi se sa come ti dà per la sombra ma non ti invociva non ti poteva e bocca e back anche se vuoi non posso decidir che ti passi nel futuro ma non ti s'è per i miei che sui non ti s'è non ti portano non ti facci non ti s'è non ti racconto non ti racconto non ti racconto non ti racconto non ti ho detto no l'argento, no l'amant tu hai molto l'argento in tua vita ma quasi non c'è l'amore, non c'è l'amore. Non c'è l'amore, non c'è l'amore, non c'è l'amore. Non c'è l'amore, non c'è l'amore. 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 Un'ore. 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 9% con la bocca Nina, maniere come avisa un mujer non tenance fuerti tenance fragile e ti viene fuerti di vita e mi ti chiede come va a virare un mujer fuerti te hai geslaha magdemans magdemans quale te deseo maximo di buo corazon? di timi pas tranquillidad ja Nina, ti hovi pregunten con me ti gani asiva pero mi te belegge pa un otro oportunidad pa sobra e second book is coming out e film ten a camina dus nos lo tiin opportunidad di conversa Nina, mi te deseabo tour clase di exito van harte, di corazon mi te deseabo tour clase di exito mi te deseabo che dar i becamina kubota pa bo sigi prospera denge espacio denge mindset kubota tenga walkie ja mi te deseabo mi mes pa mi mindset kubota di hustler turn up in moneymaker op een goeie manier op een legale manier nois hobbi na lovisa bonkede koni un papel Nina no, nada nada mi zijn engeleg genito invece mi porto a trattare tanto casa tanto appartamento, mi porto a trattare tanto cosa vuoi che I should have, but I didn't però yeah, devo avventurare un billionaire and that brings a story e naturalmente è invitazione per seguire il processo per comprender e deseo per fare la session con un uomo per comprender e con un corazon abri pa comprender non pa rusca escucha pa comprender e non pa rusca mi tutupiamo in un altro session ma si ma si dain